Abbiamo chiesto da I Di scrivere uno sketch Tipo Tipo quello dei De Pils Tre piscali al tavolo che fumano erba E parlano di quanto non gli va di lavorare Esattamente Lo sketch si svolge in un bar a Roma Dove Luigi, Luca e Matteo Stanno seduti al banco e sorseggiano dei caffè Luigi e Luca stanno discutendo animatamente Mentre Matteo cerca di calmarli Non capisco perché dobbiamo lavorare così tanto Vorrei solo prendermi una pausa E fumare un po' d'erba Sono d'accordo Lavorare tutto il giorno è una noia mortale Ragazzi, calmatevi Non possiamo mollare il lavoro Solo perché siamo stressati Perché no? Prenderemo una pausa Ci divertiremo un po' E poi torneremo al lavoro con la testa fresca Sì, hai ragione Dovremmo fare come quell'amico che conosciamo Quello che non lavora mai ma è sempre felice e rilassato Furvietto Ma Luca Quell'amico non ha una vita stabile Non ha una casa E vive di espedienti Ah, dai Non essere così negativo Prenderemo solo una piccola pausa dal lavoro No, ragazzi Non possiamo fare questo Dobbiamo pensare al nostro futuro E al nostro benessere a lungo termine Lui e Gianluca si guardano Poi decidono di ascoltare il consiglio di Matteo Finiscono il loro caffè E decidono di tornare al lavoro Bene, ragazzi Andiamo Un po' di duro lavoro Adesso ci aiuterà A costruirci un futuro migliore Fine dello sketch Questo è lo sketch Questo è quello che pensa Sta cazzo di intelligenza artificiale Brodo Ascoltalo e guardalo gratuitamente Solo su Spotify Grazie a tutti